Io ti consiglierei innanzitutto di mettersi le cuffie, di accendere i microfoni perché non li ho accesi e di andare a passino Matteo Meglio Porsche o Ferrari e perché? E' un domandone Parliamo di due icone assolute del mondo dell'auto Parliamo di due icone della storia dell'auto parliamo di due riferimenti unici per chi è appassionato di auto e di auto sportive quindi proviamo a snocciolare nel corso di questo podcast un po' di argomenti Sì perché la gente vuole sapere perlomeno il nostro parere e il perché e avere un po' di quella soddisfazione c'è chi come abbiamo detto nel video precedente non ti farà per un brand piuttosto che per un altro ma si baserà un po' sulle emozioni abbiamo parlato di emozioni Assolutamente allora il secondo me a noi ci sta molto antipatico diciamo subito che il secondo me a me fa venire avendo un collo molto lungo lo vedi che collo lungo Lunghissimo, una giraffa una giraffa mi fa venire proprio l'orticaria al secondo me allora il secondo me deve essere sempre accompagnato da una motivazione ok allora se tu mi argomenti le cose ti ascolto perché tutti i pareri hanno diritto d'asilo ovviamente Ferrari, Porsche ecco leviamo dal campo il secondo me e incominciamo ad analizzare no? le cose stiamo parlando di una cosa fondamentale due marchi che attivano l'aspetto emotivo in maniera titanica e noi sappiamo un'altra cosa fondamentale che nelle persone, nel comportamento delle persone e soprattutto per gli appassionati l'elemento emotivo si attiva sempre prima di quello cognitivo cioè l'aspetto passionale ha sempre la vinta sull'aspetto razionale oggi però cerchiamo di parlare di grandi passioni e analizziamole quindi è meglio Ferrari o Porsche innanzitutto vediamo un po' la storia no? delle vetture stradali nell'immaginario collettivo la Porsche è sempre stata una vettura più guidabile e tutto sommato è vero tu di Ferrari ne hai portate parecchie sul canale negli ultimi 15 anni Ferrari è molto migliorata da questo punto di vista Ferrari Roma io non l'ho guidata tu sì diciamo che Porsche potrebbe essere considerata una vera e propria daily car io ho amici, ho conoscenti che la utilizzano tutti i giorni ho amici e conoscenti che hanno Ferrari che non la utilizzano tutti i giorni ok ecco il punto è questo il punto è questo allora è meglio Ferrari o Porsche incominciamo a snocciolare un po' di argomenti prima usabilità quotidiana Ferrari è molto migliorata la Ferrari della tu hai provato la testa rossa hai provato diciamo dalle più vecchie dalle young timer a quelle di oggi voilà c'è un salto pazzesco stellare anche di anni immagino che questa vettura in città non sia così difficile da gestire assolutamente no però il concetto è che l'esclusività con cui Ferrari ha sempre narrato il suo marchio e ha sempre gestito la progettazione delle sue vetture vetture estremamente esclusive incide notevolmente su questo approccio psicologico del guidatore, del titolare, del padrone, del possessore di una Ferrari nel suo utilizzo quotidiano la narrativa Porsche è completamente differente Porsche è sempre stata sia per all'inizio 30-40 anni fa per affidabilità e poi per progettazione è sempre stato un marchio che ha sempre considerato un utilizzo più poliedrico del prodotto cioè una vettura che io utilizzo su strada una vettura che io utilizzo in pista senza considerare tutta la famiglia SUV di Porsche ok? Magan, Cayenne che non fa altro che enfatizzare questo prodotto io non penso Matteo che con la stellare cioè quel prodotto quando lo vedi fa venire i brividi con la purosangue cioè non è che con la purosangue vai tutti i giorni accompagnare tuo figlio a scuola e andare al lavoro le Porsche che io ho guidato delle 911 dalla Carrera alla Carrera S la 4S per poi arrivare fino alla GT3 cambio manuale la 992 quindi l'ultima che abbiamo visto che macchina è che non ho mai guidato ah mannaggia devo trovare dobbiamo trovare una Porsche assolutamente Marco tu per quella macchina è un pazzo no quella è la mia macchina per definizione eh sì ora è sempre una 911 quindi con il motore a sbalzo che però è diventata super estrema rispetto a una 997 cambio manuale la classica Carrera 4S nel senso che come hai detto tu prima è in assoluto la macchina che tu porti in pista esci dalla pista ti cambi ti metti una bella giacca e una cravatta perché di eleganza ce n'è da vendere e vai a cena fuori con un figo clamoroso con una bella moglie nel mio caso nel tuo che sei pieno di donne no guarda adesso adesso dobbiamo tagliarlo perché mia moglie mi uccide ecco scherzavo ovviamente a cena fuori Anna non è vero in una cena di gala con una eleganza e un prestigio pauroso ecco questa roba a me mi fa veramente incazzare anche perché lì dietro c'è il Roll Bar nella GT3 allora Matteo ecco perché mi hai costretto ecco perché mi hai costretto a prendere appunti perché la domanda è solo così la possiamo snocciolare non possiamo rispondere sì e no è meglio è meglio quello è meglio si basa sugli elementi emotivi ok gli elementi progettuali non è che possiamo dire che questo progetto parliamo di 911 è più figo è migliore di un progetto qualunque di Ferrari no per carità non è possibile non è possibile parliamo di visione che poi si riflette lo vediamo magari dopo lo vediamo su il modo con cui i marchi si narrano ok perfetto la 911 è un progetto pazzesco perché è una macchina è nata come una macchina sbagliata sì è un progetto dal punto di vista ingegneristico per via della posizione del motore posizione posteriore a sbalzo è una macchina che ha un posteriore che se ne va per i fatti suoi e nel corso del tempo la macchina ha costruito una serie di possessori piloti guidatori evoluti che hanno dovuto comprendere parlare con quella vettura per comprendere il modo migliore di interagire con lei e questo progetto si è evoluto nel tempo fino a quando da uno sbaglio è diventato un prodotto la 992 che ha da una parte smussato stemperato le caratteristiche così evidenti della 911 dall'altra l'ha resa unica mamma mia è bellissima se tu pensi Matteo mi infervoro perché motorsport poi un giorno porteremo nel canale il mio casco che c'è scritto motorsport in carattere cubitali ed è un casco che ha avuto anche un certo tipo di attenzione da parte di Bello perché è un casco un po' strano lo racconteremo se tu pensi pensiamo pure al motorsport Porsche Ferrari dobbiamo portare nel salottino magari ragazzi se vi va ditecelo un po' di storie leggendarie degli scontri epici in pista a me si a me va a te vabbè tu sai dobbiamo pure sentire se vi piacciono queste storie le raccontiamo perché c'è un mondo quasi da pornoob quasi da pornoob gli scontri tra Porsche e Ferrari in pista io non sapevo che si diceva pornoob ma io sono napulitano pornoob quasi da pornoob gli scontri o io porno come vogliamo sempre roba pornografica sempre roba pornografica perché quella roba lì è pornografica leviamo un attimo però adesso a parte gli scherzi leviamo un attimo l'aspetto degli scontri epici apicali parliamo delle due vetture le vetture che si scontrano sui monomarca bene la Ferrari la 296 levata che non è ibrida 700 cavalli quasi e il Porsche il 911 tipo 992 GT3 sono due vetture che hanno attratto negli anni non il modello ma la tipologia di monomarca hanno attratto piloti differenti anche lì anche lì fermo restando che sia Porsche che Ferrari hanno iniettato nel mondo GT da corsa piloti sopraffini di altissimo livello però se mettiamo i due monomarca sullo stesso piano e facciamo un confronto lì possiamo dire che i piloti più esperti ok più forti la media la troviamo in Porsche perché Porsche è una vettura negli anni che ha proprio per la sua architettura ha prodotto una linea di piloti da corsa espertissimi se tu vai forte in Porsche ok con 911 vai forte con tutte le GT perché è una macchina bastarda io ho visto è facile da guidare la Ferrari la Ferrari è una macchina perfetta cioè se sali su un Ferrari da corsa trovi tutto perfetto ad altissimo livello cioè non è che sia facile e vanno tutti forti bisogna essere dei piloti per andare fuori però è una macchina equilibrata la Ferrari ha fatto della raffinatezza telaistica dell'equilibrio dei pesi della modalità di erogazione della frenata della velocità e della stabilità nei transitori che è il suo il suo linguaggio è una macchina perfetta la Porsche è una macchina stronza difficile ok per andare forte in Porsche devi stare lì a comprendere ok a capire come si muovono le masse e allora un pilota che riesce a parlare quanti piloti fortissimi non voglio fare i nomi ci sono piloti fortissimi ancora in in attività che hanno stravinto in Ferrari hanno preso schiaffoni in Porsche prima di capire come funzionava il gioco e quindi hissarsi di nuovo nelle zone alte perché se sei forte sei forte sì questa caratteristica ha creato una generazione di piloti estremamente forte mi verrebbe anche da dirti un'altra cosa parlando sempre di motorsport questa differenza tra Porsche e Ferrari la possiamo trovare anche nella categoria turismo nelle trazioni anteriori adesso noi sappiamo che la categoria turismo è sostanzialmente TCR no? ok? è la regina ci sono c'è un monomarca con attrazione anteriore che ti consente di individuare il pilota fortissimo dove se vai forte in quel monomarca puoi andare forte a livello mondiale nel turismo da corsa che è l'Arena Clio lo stesso discorso il fatto l'architettura dell'Arena Clio per farla andare forte richiede un posteriore molto libero estremamente camberato quindi reattivo da morire se vuoi andare forte con l'Arena Clio devi avere una macchina molto libera posteriormente una macchina libera posteriormente è schizofrenica cioè va forte e te la perdi in un attimo quindi un pilota che riesce a accordarsi al meglio con la Clio va forte con tutte le macchine un pilota che va forte in Porsche con la 911 GT3 va forte in tutte le macchine dice qual è meglio? sono tutti elementi emotivi che ti fanno guardare il marchio in un certo modo ritorniamo ritorniamo a bomba alla domanda iniziale meglio Porsche o Ferrari? questo è un altro elemento poi ognuno porta le sue conclusioni certo certo la domanda la faccia a te no? tu hai provato la testa rossa hai provato la GT3 la 992 hai provato la Roma hai provato il Porsche più un modello più AG a livello di emozioni io quando ho visto questo affare qui questa fabbrica di vedove la 930 Turbo io avevo un po' l'ansia perché innanzitutto è meravigliosa guarda guarda che cos'è e poi so che non è una macchina facile da guidare queste sono Porsche d'epoca ormai ecco in termini di emozioni qui ce n'è veramente tanta tanta da vendere l'evoluzione che ha avuto Porsche negli anni è drastica perché già dalla 991 GT3 alla 992 è cambiato il mondo io feci un video con Motor One che poi ho riportato anche una parte di quel video sul mio canale dove proprio cerco di descrivere questo avantreno incredibile che è riuscito a fare Porsche nonostante come dicevete il motore a sbalzo quindi una macchina stronza da guidare che però negli anni da questo sbaglio da questo posizionamento del motore sbagliato hanno fatto delle migliorie tali che hanno reso una macchina estremamente affilata da guidare e infatti poi si vedono i risultati anche nel motorsport qui c'è un'emozione fortissima la paura di farsi male con una macchina del genere ma questa emozione non si è persa con le auto nuove cioè io col GT3 Marco e mentre te lo racconto mi si alza immagino io ero fuori di me ho detto io questa macchina la voglio prima o poi me le vendo tutte se ne devo mettere una ci metto quella lì e ovviamente voglio spezzare una lancia a favore di Ferrari il mio sogno più quello veramente nel cassetto questo cassetto è chiuso da tanti anni è Ferrari cioè per me un cavallino nel garage Marco ma Ferrari solo quando ho infilato dentro al mio garage che era il 348 oppure un testa rossa mi ricordo mi si arredava il garage io stavo lì ore a fissare sta macchina e quindi 930 turbo come si muoveva io non ho avuto un grande feeling nel guidare questa macchina te lo giuro a parte come te so che a te piace il pedale il freno e lo sterzo i due punti di contatto oltre ovviamente al sedile il cambio quindi sono 4 non ho 3 però la pedaliera è tanto su tanto alta la corsa della frizione è lunghissima ero proprio scomodo in più il sedile è un sedile come puoi vedere che non avvolge quindi io andavo da una parte dall'altra il feedback dello sterzo era veramente rispetto a quello che sono abitato a guidare molto vecchio come si dice poco comunicativo in più Marco di velocità ne fa tanta questa c'è questa c'è 4 marce la terza non finisce mai i freni frenano non frenano insomma diciamo la verità io ho avuto paura nel guidarla e il salto con la GT3 stessa famiglia stesso modello no Marco si passa attraverso le 993 le 996 quindi la prima raffreddata a liquido che ha avuto già ovviamente ho fatto uno step di tecnologia enorme poi la 997 poi siamo arrivati ovviamente alle GT3 beh l'evoluzione è stata estrema secondo me si è arrivato a una roba paurosa però poi il motore è sempre a sbalzo la forma della macchina è sempre quella la come dicevamo nel nostro video dell'M3 hanno mantenuto fede alla loro politica e quanti anni so che Porsche fa il 911 più di 50 assolutamente Matteo invece testa rossa allora a parte non so se hai notato dove abbiamo messo questa macchina per girare il video location pazzesca non abbiamo più a disposizione ma è stata una bella opportunità che ho saputo sfruttare bene ecco questa è una macchina che mi ha fatto impazzire morire parliamo sempre di emozioni l'ho guardata per ore prima di accendere le telecamere non sapevo come descriverla avevo paura di non essere sufficientemente bravo nel descrivere una roba del genere parlo della matita di pino in farina ma poi quando l'ho accesa e quando ci ho fatto un giro a parte il suono dimentichiamoci io sono ingegnere del suono per me il suono è tutto Marco ci vuole il fisico per guidare sta macchina è una macchina fisica quando sono sceso tremavo ero stanco ero sudato cioè ragazzi questo video è da vedere secondo me una macchina pazzesca poi stiamo parlando del 12 cilindri quindi stiamo parlando del cuore di Ferrari oltretutto Ferrari è uscita adesso con la nuova proposta legata al 12 cilindri e questo non fa che far godere gli appassionati ecco vedi quanto è difficile Matteo poi alla fine lo stiamo vedendo quanto è difficile dire meglio uno o meglio l'altro è impossibile e cominciamo a comprendere che non è questa la domanda o meglio potrebbe essere la domanda per innescare tutta una serie di considerazioni che non abbiamo finito se mi hai costretto a scrivere degli appunti è proprio perché sono talmente tante e queste sono il 10% delle considerazioni che diventerebbe impossibile raccontare qualcosa di questi due marchi belli questi appunti che hai preso Marco molto interessanti tu dici che non ti sembra che Ferrari preveda una cosa simile che cosa Porsche è particolarmente attiva nelle attività customer più di Ferrari dici il Porsche Experience Center di Franciacorta è fenomenale e se pensiamo che è un impianto aperto sempre per i clienti e che mette a disposizione per gli appassionati insomma un'esperienza di guida quindi questa cosa qui è un plus di Porsche ce l'hanno tutte e due sia Porsche che Ferrari hanno un'attività loyalty di fidelizzazione del marchio di mantenimento del rapporto con il cliente molto figa molto intensa vivono di questo è un fatturato importante proprio per il marchio se tu pensi al museo Porsche il fatturato che fa no però qua possiamo qua è più facile dire qual è meglio secondo sempre secondo te cioè sempre è un approccio soggettivo qual è meglio qui è più facile trovare delle differenze che vanno a qualificare l'offerta cioè il Franciacorta il Porsche l'Espirance Center di Franciacorta è è un qualcosa da vedere assolutamente non solo perché il cliente Porsche entra nell'universo Porsche in una esperienza immersiva a 360 gradi Matteo no? perché compro la Porsche e ho la possibilità di provarla lì ho la possibilità di iniziare a conoscerla attraverso dei piloti professionisti che mi aiutano a conoscerla ma ho la possibilità io che non sono un possessore Porsche di prendermi dei moduli e farli pagandone anche poi tanto ok? di esperienza che Ferrari questo a Fiorano non offre Ferrari la offre attraverso questo genere di esperienze e lo fa attraverso società collegate Ferrari fa più delle experience esclusivissime per i propri clienti Porsche è più aperta Ferrari è più autoreferenziata ecco questo è un argomento che per quanto mi riguarda mi piace più Porsche senza dubbio no? proprio perché Porsche è più aperta al cliente ci sono degli eventi che fa Porsche e che fanno Ferrari ma gli eventi Porsche sono più coinvolgenti proprio perché ti dà questa sensazione di come dire di apertura che Ferrari nella sua nel suo esclusivissimo mondo vuole mantenere ok un po' più ermetica un po' più chiusa sono scelte sin dall'inizio Ferrari è stata così ed è il motivo per cui quando entri e hai a che fare con il mondo Ferrari effettivamente ti vengono i brividi sotto pelle cioè non è un difetto anche non è un difetto io sono andato a vedere il museo Ferrari e il museo Porsche è andato due volte l'ultima con Riccardo da pochissimo quando entri nel museo Ferrari non guardi solo ai auto percepisci qualcosa di quasi una chiesa questo è un dato di fatto non è un caso che il pilota di Formula 1 Hamilton l'ha sempre sognato e non c'entra niente il prodotto dinamico la meccanica del prodotto c'entra lo spirito c'entra la narrazione c'entra questa sensazione che il brand alimenta nel tempo di se stesso Porsche è meno così bellissima questa cosa è bellissima quindi brand e branding ma qual è la differenza tra queste due cose allora domandaccia questa no questa questa è una è una domanda che io amo qui amo raccontare spiegare no che cosa è la politica di brand il brand è il segno distintivo che ci fa individuare un prodotto ok il brand quindi pensiamo ai brand Ferrari e Porsche hanno tutte e due il cavallino prendi una qualsiasi persona qui fuori ti piacciono le macchine no mi serve per andare ad Abbey ci hanno quattro ruote ci hanno un volante io so questo a me serve bene perfetto li fai venire con lo scotch chiudi cancelli nascondi il nome del marchio e gli fai vedere i due marchi e dici questi qua che vi rappresentano 99 in 99 periodico Ferrari Porsche e ci hanno due cavallini quindi possono essere pure scambiati viene riconosciuto il brand della Ferrari e della Porsche soprattutto Ferrari anche quando c'è un'auto sportiva in sé un bimbo piccolo ti faccio un esempio velocissimo fuori dall'asilo sono arrivato con un'auto sportiva non era né una Porsche né una Ferrari già dal suono e dalle linee diverse dalle auto classiche Ferrari Ferrari tutti i bambini in realtà non era una Ferrari questo ti dimostra proprio questo discorso il brand che fai tu è pazzesco e della brandizzazione poi perché è lì che sono arrivati anche questo o no? assolutamente anzi io chiedo scusa al canale perché Matteo pur la seconda lingua è l'americano pur avendo studiato in America eccetera odia io sono d'accordo con lui odia che si parli con degli inglesismi però Matteo brand e branding sono due inglesismi che rendono più efficace il concetto rispetto all'italiano quindi se brand è il marchio che vedi ma non è solo il marchio che vedi quando lo vai a vedere istintivamente inconsciamente le persone associano a quel marchio tutta una serie di valori di emozioni di storie di esperienze reali ok che hanno fatto o che hanno si immaginano legati a quel a quel marchio va bene ritorniamo a bomba su Porsche e Ferrari bene i due marchi includono una narrazione incorporano un gesto che è il marchio il prodotto auto che nell'immaginario collettivo ci riporta a tutta una serie di scenari e lo facciamo inconsciamente quando vediamo il ma non la macchina quando vediamo il logo lo facciamo inconsciamente bene quello è brand cos'è branding branding è proprio l'attività che la casa che è il titolare del brand mette in atto quindi tutte le politiche di marketing di comunicazione di commerciali ok industriali che devono rispettare la filosofia del brand quando tu fai qualcosa che non è correlato al marchio ecco che si crea una distonia che il il cliente finale l'appassionato percepisce ok quando quando vediamo una macchina che guidiamo che non ci non ci riporta al prodotto una cosa che dobbiamo fare nel canale è commentare i commenti vostri abbiamo fatto la prova della M quanti commenti abbiamo detto si bella ma una macchina non mi richiama la M ok è troppo pesante troppo ampollosa troppo carica non mi richiama la M non è un commento sbagliato ma è un commento che dobbiamo motivare spiegare perché ecco però che cosa è successo nell'immaginario collettivo dei nostri ascoltatori dei nostri follower questa distonia tra quello che ma anche tu quello che io considero di M e quello che ho guidato con la M touring Marco io vorrei averli qui non ci abbiamo mai tempo ma rispondere a un commento dovresti metterti lì no ne selezioniamo una decina facciamo una puntatina ragazzi vi piace la puntatina scusami ma vi piace una puntatina non so una volta a settimana una volta ogni dieci giorni dove selezioniamo una serie di commenti e ne raccontiamo perché i commenti sono tutti puntuali e poi lasciami dire ragazzi io sono il primo che è rimasto male negli anni con questo grande aumento per quello dicevo che la touring da 1850 kg 50 kg in più dell'M2 che dovrebbe essere la più piccola delle M ha senso perché ormai se sono tutte grandi per lo meno lì c'è un bagagliaio da 1000 litri c'ho la trazione integrale c'ho tante caratteristiche di cui abbiamo parlato che mi valorizzano questa cosa ma ci sono rimasto ovviamente male che sono aumentate di peso però raga non si può paragonare se io ho detto una volta che l'M3 è l'auto definitiva l'A46 non posso dirlo di un M oggi perché sono passati 22 anni sono tanti le cose si evolvono assolutamente no la cosa fondamentale è ok pesi di più ma rispetti la filosofia del marchio beh quello si allora quello è importante ed è il concetto che ci sta è il fil rouge che noi stiamo usando in questa puntata per dire è meglio Porsche o Ferrari tutte le azioni che fanno rispettano la filosofia del marchio beh si assolutamente si allora io ti dico Matteo che abbiamo parlato mi hai stimolato sul discorso degli eventi li fanno tutte e due abbiamo detto che Porsche è più aperta più spontaneamente attenta anche all'interesse di chi non è un porscista meno elitaria tra mille virgolette di Porsche di Ferrari questa roba si vede e io che sono un appassionato e uno studioso di comunicazione si vede nel loro modo di costruire di raccontare il loro brand e quindi fare branding attraverso i video se tu vai a vedere i video di Porsche e i video di Ferrari sono due canali parliamo di YouTube fermiamoci a casa nostra ma anche la pubblicità fermiamoci a casa nostra cioè fermiamoci a parlare di canali YouTube Ferrari ha un milione vado a spand non sono sicuro un milione e ottocentomila follower qualcosa in più e Porsche ce n'ha un milione e mezzo stiamo là come parla come narra Ferrari come narra Porsche Ferrari video fantastici molto didascalici parla di motorsport parla di come sono andate le gare parla del prodotto quindi lo fa in maniera pazzesca parla di ciò che produce Porsche ha avuto un culo pazzesco di richiamare l'attenzione e l'entusiasmo di un grande attore che è Patrick Dempsey innanzitutto quindi io ti invito e vi invito ad andare a cercare Patrick Dempsey e Porsche ci sono dei video che fanno morire dalle risate perché Patrick Dempsey è stato pilota Porsche ed ha uno dei team più forti di Porsche poi abbiamo Fassbender quindi quello ha influito proprio nella ma stiamo parlando di decine stiamo parlando di decine 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 di milioni di visualizzazioni quindi tu stai dicendo che Porsche arriva un po' al cuore di più persone anche quelle meno appassionate perché parla fate video se tutti conoscono Porsche e tutti conoscono Ferrari perché è un'auto forse l'auto sportiva per eccellenza Ferrari sì cioè qual è l'auto l'auto esclusiva Ferrari è l'auto sportiva esclusiva Porsche è un po' meno esclusiva ma è l'evoluto Porsche è un'auto che parla più al cuore dell'appassionato declinandosi in maniera differente proprio per aprirsi ok Ferrari è il tempio Porsche non è il tempio noi siamo i numeri uno Ferrari è il tempio Ferrari dice dettiamo legge perché siamo i numeri uno noi siamo così in questo linguaggio però è una bella cosa questa fa onore per noi italiani assolutamente noi siamo così in questo linguaggio vogliamo essere estremamente quando fa quando no perché adesso io ti sto per fare la domanda e dimmi a te quale piace di più eh però fammi finire questa è una domanda bastarda perché questa perché scusa ma me l'hai cacciata fuori con le navie ritorniamo per chiudere come lo dici no aspetta fammi finire perché vedi questa è una domanda che mi devo prendere del tempo allora il concetto è di rispondere io io non lo so però il concetto adesso mi è venuto in mente una cosa no mi immaginavo i progettisti Ferrari che progettavano la puro sangue sì sì e mentre progettavano la puro sangue macchina più spaziosa eccetera dentro di loro più forte più forte più forte no più forte più forte non va bene questo più forte più il massimo il massimo no Taycan Macan è un'impostazione quindi questa roba governa Ferrari Porsche è più tra virgolette democratica quindi senza compromessi Ferrari anche oggi senza io credo io credo che Ferrari rispetto a Porsche sia una macchina molto più estrema senza compromessi le diamo guidabilissima affidabilissima ma una macchina senza compromessi molto esclusiva Porsche è una macchina che come detto te il concetto di Porsche rimane quello cioè io mi prendo una GT3 RS e mi vado a scrivere alla 24 ore le man e poi con quella macchina lì ritorno a casa l'idea è quella come i Bentley Boys non so se avete mai sentito parlare dei Bentley Boys e quindi delle Bentley anni 30 possiamo fare un salottino al riguardo lo faremo però aspetta se no si arrabbiano non è che con un 488 non ci vado a cena fuori dopo essere uscito dalla pista c'è tensione perché forse perché proprio nelle linee nell'eleganza di quella macchina che ci ricorda un po' le auto classiche le Porsche classiche che non è mai cambiata negli anni che abbiamo quel gusto di dire questa è una macchina che ci catapulta in due modalità di vita totalmente diverse quella sportiva della pista e quella della vita quotidiana questa qua è una Ferrari 430 scuderia macchina che ha fatto un video macchina pazzesca cioè proprio questo modello l'ha guidato Michael Schumacher ci sono i video che ho prodotto lì ecco questa io è una di quelle macchine che vorrei avere in assoluto forse perché io questa domanda Marco te la voglio fare permettimelo perché io voglio sapere se tu preferisci proprio preferisci no meglio Porsche qual è la tua preferita perché io la risposta già ce l'ho e comunque io tendo a stare a casa nostra tu tendi a stare a casa nostra a me è una domanda pazzesca io 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 ho guidato la 4 questa qui benissimo la 360 challenge che era prima di questa mi fermò la polizia perché stavamo facendo un video sopra Genova e il poliziotto romano mi ha detto ma questa come l'hanno pensavo che facessimo una gara che stessimo facendo una gara clandestina perché avevamo tutta una serie di macchine pornografiche era un set porno e questo qua mi ha detto ma questa macchina come l'hanno omologata talmente il frastuono che faceva quindi è una domanda pazzesca quella a cui mi chiedi cioè Porsche e Ferrari io tu Ferrari dovrei presentarmi con due macchine per fare un video una Porsche e una Ferrari e te le metto a disposizione per due giorni e poi mi dici non lo so non lo so certamente te la devo dare la risposta vabbè tu ti sei beh Marco allora noi non voglio fare il democrazia noi vogliamo sapere perché tu sei una persona del settore e ne sa quindi è bello sapere il tuo parere perché no tra Ferrari e Porsche cosa scelgo allora intanto prendiamone due dai facciamo un gioco facciamo un gioco non il GT3 RS sì però coinvolgiamo pure coinvolgiamo pure loro eh GT3 992 qual è la diretta GT3 Rover 92 allora qua nel 2007 c'era il 430 Scudria Lamborghini adesso abbiamo il 2 il Superleggera scusami e il Porsche GT3 991 991 oggi abbiamo il GT3 RS 992 qual è la sua diretta competitor che sale 488 ho la 296 beh infatti ditecelo voi qui sotto ho la 296 ho un attimo di calo di zuccheri no eh io non lo so certo è una bellissimo è un bellissimo dilemma avere i soldi però io te lo devo dire te lo devo dire di colpo così sì devi scegliere devi scegliere lo dico diccelo non lo sapevo tu sei italiano io sì tu pure io pure io però GT3 992 veramente RS non mi parli non mi parli non mi parli non mi parli mannaccio far else è bella sì GT3 ma no perché Porsche è questo che mi affascina cioè sono due macchine cioè non è perché se mi dai la 296 la devi buttare dimmi dove cioè siamo ritorniamo vedi come siamo ritornati all'inizio è impossibile Matteo è impossibile dire cosa è meglio sai che possiamo fare con un sondaggetto al volissimo allora GT3 RS rimanendo sì la 488 pista tra le GT3 anche le 991 e RS e una 488 pista io ho capito io vado per Ferrari tu vai per Porsche e voi ragazzi qui sotto la colonina dei commenti dovete distruggerla devastatela perché noi vogliamo sapere vogliamo fare un sondaggio interno interno però ecco non per fare il democristiano ma per amore della precisione qua stiamo parlando di qualcosa di che non è legata ad una scelta razionale ok ci siamo stiamo parlando di due assolutamente monumenti quindi ritorniamo a bomba sull'elemento emotivo che si attiva sempre prima di quello cognitivo per i miei gusti Matteo ha capito ma anche per me per i miei gusti per 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 le importanza che io do a una serie di fattori di di branding perché il mio mestiere si si è chiaro che io osservo come tu stai alimentando il tuo brand e come alimenta il brand Porsche e Porsche Porsche è qualcosa di veramente coinvolgente se ci sono dei video motivazionali che nessun'altra casa fa e che fa solo Porsche allora come alimenta il brand Porsche è qualcosa per me estremamente seduttivo ma non è legato al prodotto non è legato al prodotto magari la Ferrari va meglio e in parole povere al mondo che c'è intorno ad esso sì è il mondo io sono sedotto da come tu ti stai proiettando e come narri te stesso e questa è la forza di qualsiasi prodotto essere coerenti con quella che chiamano gli inglesi scusami ancora l'inglesismo brand awareness cioè consapevolezza del marchio awareness però c'è proprio awareness ma boh io ogni tanto ci metto la O perché mi fa meglio io ti voglio bene anche io sei un grande ragazzi ma mi rendete conto che pillole che ci tira fuori sto uomo qua no ma tu sei bello io devo rimettermi in forma no ma invece marco della monica a proposito su instagram mdm a proposito non ti ho detto e lo dico ragazzi grazie perché ho trovato in due settimane qualcosa come 80 followers followers come dice mio figlio followers la mattina mi sono svegliato ho visto 24 di chi è non ho il tempo meriti tanto però faremo tante cose mi ha ripresa ovviamente mi ha ripresa la scimmia altissimo stanno seguendo i ragazzi inglesi di Evo ti fanno tanti complimenti leggere i commenti su di te ti ha fatto piacere grazie per i commenti oltretutto molto graditi e soprattutto rimango vedi ecco prima di chiudere un esempio proprio plastico che riguarda ODP abbiamo detto che Porsche è l'importanza della coerenza del brand no il tuo canale tu sei stato capace sei capace di mantenere una fottuta coerenza con quella che era la tua visione sin dall'inizio poi ti sei è chiaro l'evoluzione l'evoluzione ci deve essere ma deve essere coerente non è un caso che il 99,99 periodico di chi commenta è gente che ha cognizione di causa cioè è gente che ti stimola perché quando leggi due righe comprendi che questi ragazzi queste persone hanno attivato il cervello e stanno motivando la cosa è una bellissima community assolutamente potentissima stiamo solo all'inizio se sapeste le cose che vogliamo io io gli voglio bene e quando l'incontro è sempre una festa bello bello così iscrivetevi ragazzi se siete nuovi lasciateci like iscrivetevi like come dice Matteo like su ODP sui suoi profili ma anche sul mio MDM tutte le lettere Etta e Marco mi rende 15 euro questa cosa 15 euro a follower no voglio sperare di vendermi casa ciao